Si sapeva che sarebbe stata una difficile partita, così è stato, però il Gozano anche quest'oggi ha dimostrato quelle che sono le sue armi, compattezza, attenzione, difesa. Sì, sicuramente, ha fatto comunque un applauso al Varese perché Varese, a prescindere da quella che è la situazione di classifica, è una squadra con giocatori forti, ben allenata e oggi comunque ha fatto un'ottima partita. Allo stesso tempo devo fare comunque i complimenti ai ragazzi, allo staff, al mister perché ogni settimana si riconfermano su quello che poi è la volontà e la tipologia di lavoro fatta in settimana. È una squadra che dobbiamo provare sempre a giocare e quando ci riusciamo e quando lo facciamo meno abbiamo qualche difficoltà come il secondo tempo di oggi, però le caratteristiche chiaramente nostre sono quelle della compattezza, dell'unità tra i reparti e della velocità poi nel muovere palle e ripartire. Poi magari Gullin che nell'ultima partita è stata in panchina, oggi gioca da titolare, al posto di un Ardone fa gol. La differenza a oggi, se chiaramente mi permetto di fare una valutazione a 360 gradi, è quella che la rosa della Gozzano ha giocatori importanti che magari fino ad oggi hanno avuto poco spazio, ma sicuramente lo avranno, cioè se si va a prendere dal dodicesimo al ventesimo ogni domenica nel Gozzano ci sono 3-4 giocatori vecchi che quando entrano fanno sempre la differenza. Oggi è la quinta partita in 10 giorni che facciamo, a domenica sarà la sesta, tra 15 giorni giochiamo ancora 3 partite. È troppo importante avere una rosa competitiva dove l'allenatore ogni settimana fa giocare chi sta meglio, quindi è la base per risultati importanti. C'è la sensazione di aver eliminato una diretta concorrente per la vittoria del campionato o per le zone alte della classifica, sono 13 punti da recuperare, sono tanti. È chiaro che devono essere bravissimi loro e a oggi noi la distanza ce l'hanno da noi, dobbiamo sbagliare noi per permettergli di recuperare tutte queste differenze.